La piscina comunale riapre o non riapre, chissà come finirà questa guerra infinita tra il gestore e il comune di Arezzo. Di fatto c'è un'altra puntata. Dopo il post pubblicato proprio dai gestori, nel quale si leggeva che la piscina non sarebbe stata riaperta, arriva un'altra nota, questa volta scritta dal comune di Arezzo. Si apprende da notizie stampa, si legge nella nota, l'intenzione del gestore della piscina comunale di non riaprire per il momento la struttura, non consentendo la ripresa delle attività, nonostante la disponibilità della società Chimera Nuoto ad effettuare i controlli sulla certificazione verde, così come ratificato dall'ultima ordinanza del sindaco. La stessa ordinanza, prosegue la nota, prevede la possibilità per qualsiasi altra società sportiva e per il gestore stesso di effettuare attività garantendo la sicurezza e il rispetto delle regole. Sono comprensibili, scrive ancora il comune, tempi tecnici per la riattivazione degli impianti, ma non sono giustificabili motivazioni di diversa natura. Saranno quindi formalmente e tempestivamente richieste al gestore informazioni sui tempi e le modalità che intende adottare per la riapertura dell'impianto. In base alle risposte che verranno fornite, conclude il comune, l'amministrazione farà le proprie valutazioni senza escludere ulteriori interventi, compresa la revoca della stessa gestione, in base alla normativa vigente e alla convenzione in essere, con il solo e unico fine di restituire il prima possibile alla cittadinanza l'utilizzo della piscina in totale sicurezza.